Dopo il cuore degli altri esce questa canzone che si chiama Felici che ho scritto quasi due anni fa ormai in un momento di snodo importante quando dal mio paese, paesino, Sant'Aracangelo di Romagna che è un paesino vicino a Rimini mi trasferivo definitivamente a Milano e parla di un momento comune e abbastanza semplice anche una sorta di scambio di messaggi tra un gruppo di amici del liceo che dopo tanti anni che non si vedono cercano di organizzare una cena e un modo per ritrovarsi quindi questa cosa mi è servita per sviluppare il ragionamento su quello che abbiamo ottenuto e che non abbiamo ottenuto in questi anni di distanza in questi anni in cui non ci siamo visti le cose che sono andate bene, le cose che sono andate male fare in qualche modo un bilancio cercato o nel mio caso non cercato delle proprie vite c'è un mantra nella canzone che è Felici e disarmati che torna molto spesso sia davanti come voce principale che come coro dietro l'arrangiamento degli strumenti e sottolinea specie la parola disarmati che può essere vista normalmente con un'accezione negativa cioè la mancanza di voglia di combattere, la mancanza di tenacia, la mancanza di spirito combattivo ma che ho usato in un'accezione assolutamente positiva cioè un'accezione quasi bellica cioè senza armi e volevo usare questa parola proprio associata a felici e disarmati perché penso che sia il momento della mia vita ma in generale penso sia un momento in cui alzare le mani e guardare ogni cosa e ogni persona venendo in pace come si dice sia fondamentale dal punto di vista della produzione ho lavorato la canzone con Franco Nadei con il quale ho lavorato il primo pezzo, il cuore degli altri con il quale lavorerò sicuramente i prossimi perché è una persona con cui ho maturato una certa intimità e connessione dal punto di vista umano e artistico e abbiamo ragionato questa canzone come una miscela tra la componente acustica la componente suonata e la parte sintetica dove la parte acustica, dove la chitarra acustica è sempre al centro e dà il calore e dà il tepore alla canzone e la parte sintetica è ragionata come qualcosa di viscerale, di scuro, di intimo e di buio alla canzone ho legato un video così come è stato per il cuore degli altri perché mi piacerebbe che questa fosse come una storia puntata e quindi ogni canzone fosse legata necessariamente a un video perché prima di tutto penso sia fondamentale in questi anni legare a dei suoni, delle immagini e ho lavorato a questo video con Federico Circosta che è la sua opera prima ed è un video che fondamentalmente parla di una cora se riprende una ragazza che corre e credo sia molto poetico in relazione alla canzone cioè correre e in qualche modo andare alla ricerca o scappare dal proprio destino a seconda dell'angolo e dell'atto da cui vogliamo vederla grazie a tutti